Grillo esprime la sua vicinanza ai deputati e senatori del Movimento 5 Stelle che in questi giorni sono nell'occhio del ciclone per le proteste nelle aule parlamentari. In una conferenza stampa, il Movimento dà la sua versione dei fatti in merito all'ostruzionismo nell'aula di Montecitorio e sull'occupazione delle commissioni giustizia e affari costituzionali, interpretando come un atto estremo il gesto della Presidente Boldrini di utilizzare la ghigliottina. E soprattutto nell'ultima riunione, questo ci tengo che gli italiani lo sappiano, nell'ultima riunione quando si è arrivati alla decisione finale, alla decisione estrema sofferta dalla Presidente della Camera, poco prima della riunione ufficiale con tutti gli altri Presidenti del gruppo, la Presidente Boldrini si è riunita nella sua stanza con il Ministro Franceschini. Quindi questo significa che in quella stanza hanno deciso cosa fare e poi sono venuti a mettere in scena una farsa con tutti gli altri Presidenti di gruppo, dove in maniera sofferta la Presidente ha deciso di eseguire questa azione gravissima. Riassunto poi l'iter della riforma elettorale, si è partito da lavorare sul nulla per la mancanza di un testo scritto, per poi approdare ad un testo in cui mancavano delle parti. Gli emendamenti presentati dal Partito Democratico sono stati, l'indomani mattina sono arrivati intorno alle 23.30, sono stati ritirati da chi? Da chi sta telecomandando i deputati del Partito Democratico, perché noi siamo tacciati di essere telecomandati, ma noi rappresentiamo la libertà di espressione e la libertà di approfondire gli argomenti per trovare le soluzioni giuste per il Paese. L'obiettivo è quello di far tornare il rispetto delle regole democratiche. Faremo un ricorso diretto come gruppo parlamentare, che non ha precedenti, è un ricorso diretto per conflitto di attribuzioni e riguarda anche quanto appena detto dal collega Brescia nei confronti di quanto ha fatto ieri di quella violenza, la democrazia, la libertà rappresentativa che ha fatto ieri la Presidente Bolterini con la ghigliottina. Un ricorso diretto a queste violazioni procedurali del regolamento della Camera e soprattutto della Costituzione e lo faremo alla Corte Costituzionale con l'obiettivo di ottenere l'annullamento di tutto quello che è successo, con l'obiettivo di tornare in Commissione e lavorare, perché siamo un po' qua per questo. Parole molto dure soprattutto verso la Presidente della Camera, Laura Boldrini. L'altra cosa che chiediamo, più che altro che ci domandiamo, è se la Presidente Boldrini ha problemi di strabismo. Per una questione molto semplice, è una donna nota per le sue battaglie verso le donne ed è capace di punire un gruppo parlamentare in un nulla, cioè in niente, nel momento in cui sale su un tetto per difendere la Costituzione, ma non ha detto niente a riguardo di D'Ambroso. Quindi mi domando, esistono donne di serie A e donne di serie B? E a quel punto, essendo una donna di serie B, devo dire che mi sento abbastanza orgogliosa di esserlo. È chiaro che se noi ci troviamo di fronte, ai prossimi giorni, ci troviamo di fronte ad un bivio fondamentale. La Presidente e i partiti e i movimenti politici che abitano questo ramo del Parlamento devono capire se sono disposti ad accettare che noi sediamo qui oppure se siamo un problema. Perché se vogliono trattarci come un problema, come qualcosa da sopprimere, utilizzando delle piroette regolamentari, allora per noi c'è un problema anche nella Presidenza. Io voglio capire, stamattina io sono stato protagonista dell'ennesima assurdità, sono andato in ufficio di Presidenza, io e Fraccaro, lì si doveva discutere dei fatti avvenuti in aula ieri. Siamo stati lì mezz'ora ad aspettare, ci siamo resi conto che era in atto probabilmente un vertice di maggioranza nell'ufficio della Boldrini. Allora, se in questo Parlamento le decisioni si prendono nelle sedi non competenti e si finge di venire a votare nelle sedi competenti, allora anche la Presidente Boldrini non è tra le persone che noi crediamo possa restare al suo posto. Vedremo nei prossimi giorni, la mia collega Lupo l'ha detto chiaramente, noi ci aspettiamo che vengano ripristinati i livelli democratici. Si devono convincere del fatto che noi siamo stati votati da quasi 9 milioni di cittadini e sediamo qui dentro e ne abbiamo diritto. Se loro pensano che i regolamenti, la burocrazia, la coalizione tra partiti, anche che dicono di non essere maggioranza, ma sono maggioranza quando sono contro di noi, deve essere un modo per metterci nell'angolo, per toglierci di mezzo, come è stato con la legge elettorale che il primo incontro si è fatto al Quirinale con solo i partiti di maggioranza, se vogliono che sia così, il nostro comportamento continuerà come quello che avete visto in questi giorni. Se invece si ripristinano i livelli di democrazia, significa che si comincia a discutere nelle commissioni, che non si applicano ghigliottine e non si fa in modo che l'opposizione sia tagliata fuori da qualsiasi discussione, allora possiamo fare la pace, se così si può dire. Invece volevo chiedere, sulla ghigliottina c'è una dichiarazione della Presidente Boldrini, la riassumo, dice la Presidente Boldrini, ho voluto impedire che le famiglie dovessero pagare l'IMU e la ghigliottina si è resa necessaria per le rigidità contrapposte. Allora, io penso di conoscere un poco, lo conoscete molto meglio voi, il meccanismo dell'informazione. È già solo in malafede portare, addurre a giustificazione di un atto un solo tema dei tre che c'erano in questo decreto, IMU, Banca Italia e un condono, un condono mascherato. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che credo che la Presidente Boldrini conosca le regole procedurali del Parlamento, qui c'erano due strade, anzi tre probabilmente. Una era quella venerdì, quando Franceschini ha messo la fiducia, di poter dichiarare le sedute fiume e poterci far fare tutto l'iter parlamentare. Due, un atto di mediazione, perché io ricordo a tutti che se questa Camera dovesse funzionare solo a maggioranza allora mettiamo il pilota automatico alla Camera dei Deputati, ci mettiamo un funzionario, tanto tutto quello che decide la maggioranza va bene, invece la funzione della Presidente è di mediazione tra le parti politiche. Poteva benissimo consigliare, in ragione dell'incostituzionalità del decreto perché è eterogeneo, di dire al Governo invece di mettere la fiducia portalo in commissione, abrogate la parte di Banca Italia caso mai ci fai un decreto a parte e lo mandate al Senato. avevamo tutto il tempo per poterlo convertire. Terzo, il Governo può fare un decreto domani mattina in cui non reitera la norma perché secondo la sentenza della Corte Costituzionale non è reiterabile, ma dice per colmare il vuoto derivante dal fatto che l'Imu non è stata compensata con altri aumenti, la seconda rata dell'Imu, faccio un aumento dell'8% sul gioco d'azzardo e ho colmato il buco del bilancio. Punto. Ancora una piccola norma che noi dichiaravamo l'urgenza la mettevamo dentro alla commissione competente in sede legislativa andava al Senato e passava, ci sono mille strade. L'unico problema qui è che se si vuole mediare tra le parti politiche una soluzione si trova, anche perché la Presidente io non l'ho mai sentita lamentarsi del fatto che questa Camera passa il tempo a ratificare i decreti legge non abbiamo fatto una legge in iniziativa parlamentare le quattro di cui si parla sono procedurali due ratifiche e due commissioni bicamerali di questo stiamo parlando non l'ho mai sentita lamentarsi invece si lamenta degli atteggiamenti delle opposizioni continuamente e dice di dover difendere l'onore di questa Camera dai nostri comportamenti io credo che siamo sulla strada sbagliata quindi c'erano almeno 4-5 soluzioni alternative se solo si fosse venuto incontro alle opposizioni mediando cioè esercitando il ruolo del Presidente della Camera dei Deputati che dovrebbe essere questo qui Dura la critica dell'ex segretario del Partito Democratico Guglielmo Epifani Sì, questo è avvenuto perché in realtà c'è un diritto dell'opposizione a poter avere i tempi propri della discussione ma c'è anche un diritto del Parlamento di poter decidere e soprattutto poi questo si è accompagnato a una crescita di attacchi di comportamenti che mirano a che cosa? a provare a colpire le nostre istituzioni partendo dal Presidente della Repubblica al Presidente della Camera oggi è stato impedito al Presidente del nostro gruppo di poter parlare con la stampa sono tutti episodi di una gravità totale dobbiamo respingere con fermezza ma anche con serenità anche perché io credo che la democrazia ha gli strumenti per difendersi i cittadini sanno capire chi lavora per cambiare e chi lavora per impedire il cambiamento quindi da questo punto di vista io credo che possiamo uscirne perché la democrazia è solida